Ancora un buongiorno a tutti voi da Telefriuli, ben trovate in questa edizione del nostro telegiornale, un primo test per la scuola, questa mattina le prese con le nuove norme che sono state varate mercoledì scorso dal Consiglio dei Ministri, sono molte le scuole che hanno riaperto i battenti, anche se le lezioni riprenderanno a pieno ritmo, almeno stando ai calendari dei singoli istituti lunedì prossimo. Le nuove norme sono fortemente contestate da una settantina di presidi che nella nostra regione, insieme a 2000 colleghi del resto d'Italia, sostengono che non ci sono i presupposti per garantire un rientro in sicurezza e per supplire l'assenza degli insegnanti per quarantena oppure perché contagiati. Facciamo il punto nel servizio. Nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido non cambierà nulla, la sospensione dell'attività didattica inizierà il primo caso di contagio e durerà 10 giorni. Per le scuole elementari invece, se in una classe ci sarà un caso positivo, l'attività proseguirà in presenza, ma tutti gli studenti dovranno fare immediatamente un test antigenico rapido o molecolare e ripeterlo dopo 5 giorni. In presenza di due o più positivi è prevista per tutta la classe la didattica a distanza per 10 giorni. Per le scuole medie e superiori sono previste maggiori differenze, a seconda che gli studenti siano vaccinati o meno. Se nella classe avrà rilevato un caso di positività si applicherà solo l'autosorveglianza, la didattica resterà in presenza e varrà l'obbligo di indossare la maschina FFP2. Con due casi positivi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per 10 giorni per gli studenti che non hanno avuto la dose di richiamo, per quelli che hanno completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e per chi è guarito dal Covid-19 da più di 120 giorni. A tutti gli altri si applicherà invece l'autosorveglianza con l'obbligo di utilizzo di mascherine FFP2. Nel caso in cui invece ci siano almeno tre contagiati nella classe, si applica a tutti la didattica a distanza per 10 giorni. Ci sono state nuove code questa mattina all'ingresso della Fiera di Udine per i tamponi con macchine in fila fin dalla rotonda del Cormor per raggiungere il drive-in allestito dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Universitaria del Friuli Centrale. Nella struttura vengono effettuati circa mille tamponi al giorno da un team di sei infermieri e un coordinatore. In un giorno post-festivo come quello di oggi, inevitabile lungo serpentone di auto con attese anche di 60 minuti. Nella giornata di ieri intanto si è registrato ancora un record di contagi con quota 4.000 sfondate, in particolare su 10.131 tamponi molecolari. Sono stati rilevati 1.833 nuovi contagi, cui vanno aggiunti 2.326 nuovi casi emersi da 17.206 test rapidi antigenici realizzati. Sono 9 le persone morte con Covid, tra queste un uomo di 55 anni disambito al tagliamento. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 30, più 1 rispetto a mercoledì, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 306, qui in discesa di 3 unità. Le persone in isolamento sono 26.046, per quanto riguarda il sistema sanitario regionale, rilevate le positività di 75 dipendenti, 25 operatori e due ospiti contagiati nelle residenze per anziani. E guardando all'ultima settimana, i contagi in Friuli Venezia Giulia sono aumentati del 170%, una crescita più o meno in linea con quanto accade a livello nazionale, dove l'aumento è stato del 153%. Emerge dall'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe, che sottolinea anche come in Friuli Venezia Giulia, tre dei quattro capologhi di provincia superino i 1.000 contagi ogni 100.000 abitanti. In particolare a Trieste l'incidenza è di 1.384, a Pordenone di 1.308, a Udine 1.10, a Gorizia 856. Il tasso di occupazione dei posti letto Covid in terapia intensiva sale al 16%, al 24% quello nelle aree mediche. Quanto alla campagna vaccinale in Friuli Venezia Giulia, ha completato il ciclo quasi il 77% della popolazione. non decollano, come nel resto del paese, le vaccinazioni nella fascia 5-11 anni. Ed è sempre in primo piano il giallo della donna scomparsa a Trieste. Sentiamo allora Andrea Pierini. Questa mattina intorno alle 9 si sono riuniti il procuratore con tutti gli acquirenti che stanno indagando sul caso di Liliana Resinovic, la donna di 63 anni scomparsa il 14 di dicembre e da cui non si hanno più notizie. Ricordiamo che nei giorni scorsi, il 5 di gennaio, è stato trovato un corpo nel parco dell'ex OPP a San Giovanni, non troppo distante dalla casa di Liliana Resinovic. Questo corpo non ha ancora un nome, ma insomma tutti gli indizi fanno pensare che sia proprio il corpo di Liliana. Oggi verrà assegnato l'incarico per effettuare l'autopsia che verrà svolta lunedì al massimo martedì per capire come è morta. Il corpo è stato ritrovato con due sacchetti sopra la testa e avvolto in dei sacchi neri, quelli condominali, quelli molto grandi e dunque è verosimile che il decesso sia avvenuto per soffocamento. Tutte le piste, lo ha ripadito il procuratore Antonio De Nicoli in questi giorni, sono aperte, anche quella del suicidio non si esclude nulla. Cosa succederà lo capiremo dopo l'autopsia che darà gli elementi chiavi per consentire agli inquirenti di cercare di chiudere il cerchio su cosa è successo e ovviamente soprattutto se quel corpo è effettivamente quello di Liliana Resinovic anche perché da alcuni particolari che sarebbero emersi i sacchetti sarebbero stati mantenuti sulla testa della donna proprio per cercare di proteggere il più possibile le prove. E c'è ancora un aggiornamento sulla vicenda perché proprio negli ultimi minuti la procura di Trieste ha fatto sapere che nei prossimi giorni prima dell'autopsia sul corpo della donna sarà eseguita anche un'attacca integrale. Gli incarichi per l'autopsia e per l'attacca sono stati conferiti agli specialisti Fabio Cavalli e Fulvio Costantinides. Manifestazione Novax non autorizzata ieri sera a Pagnacco nell'area recintata dove è stata incendiata la pira epifanica l'unica autorizzata dalla prefettura insieme a quella di Tarcento. La condanna del sindaco. Un gruppo composto da una cinquantina di Novax si è presentato nella serata di ieri nell'area dove l'associazione Tradizioni Friulane a Pagnacco ha incendiato la pira epifanica. Autorizzato dalla prefettura, il Pignarul sulla colina è stato dato regolarmente alle fiamme con la sola presenza dei referenti del sodalizio. L'area è stata recintata e controllata grazie alla presenza della polizia locale, dei carabinieri e dei volontari della protezione civile che ringrazio, spiega il sindaco Laura Sandruvi. Tutto è andato per il meglio, a eccezione di questo gruppo di persone che hanno manifestato contro i vaccini, con tanto di cartelloni creando tensioni anche con le forze dell'ordine. Un gesto che condanno con forza, chiude il sindaco. Sono in corso adesso tutti gli accertamenti per verificare la posizione del gruppo di Novax ed eventuali profili di responsabilità. E torniamo a Trieste, dove si è in attesa della riunione dei capigruppo del Consiglio regionale, primo atto ufficiale in Venezia Giulia per la scelta dei tre grandi elettori del Presidente della Repubblica. Allora, sentiamo Andrea Pierini che si trova proprio davanti alla sede del Consiglio regionale. Oggi è prevista nel pomeriggio alle 15.30 la riunione dei capigruppo per fissare poi la due giorni di Consiglio regionale la prossima settimana che dovrà scegliere i grandi elettori. Un tema che Telefriuli ha anticipato abbondantemente in questi giorni di festività. Non sono mancate le polemiche, in particolare dopo le ultime dichiarazioni del Presidente del Consiglio, Piero Mauro Zenin, che aveva appunto indicato come data per scontata la scelta sui nomi di Massimiliano Federiga, Presidente della Giunta, allo stesso Piero Mauro Zenin, Presidente del Consiglio e per l'opposizione il nome che circola è quello di Sergio Bolzunello, rappresentante del PD che è il partito con il maggior numero di consiglieri. L'uscita pubblica di Piero Mauro Zenin è irritato, opposizioni e maggioranza, però sono quelle dialettiche politiche tipiche di questo periodo storico. Per quanto riguarda, come detto appunto, la riunione dei capigruppo è fissata per oggi, pomeriggio, poi si stabiliranno le date del Consiglio regionale che sceglieranno i grandi elettori che dal 24 gennaio andranno a Roma per scegliere il nuovo Presidente della Repubblica che verosimilmente succederà a Sergio Mattarella, il quale ha già detto che non è intenzionato a fare un bis. E passiamo ai riti epifanici in Friuli che nonostante il Covid sono stati rispettati a Gemona così come a Cividale e a Trecento dove particolarmente atteso era il vaticinio del vecchio Venerandolo. La sentiamola al microfono di Paola Treppo. Il 22 bisogna farlo con molta prudenza. Il fumo va a sud, sud ovest. Non sarebbe buono. Perché buono sarebbe se va a est, se è dove il sole è sordo. Se va a tramonto sarebbe ancora peggio. Quindi l'invito è un'annualità con molta prudenza in tutto. Quindi meno stupidaggini, più testa a posto e molto più rispetto per tutti. Quindi un anno che si prospetta ancora difficile il 2022. Io aspetterei fino a settembre. A settembre potrebbe cambiare qualche cosa? Cambiare qualcosa. può darsi che inizi anche un po' prima. Comunque io vedo qualcosa a settembre. Noi che non siamo prudenti nelle cose, no? Se noi ci perdiamo la isola e il cur e il cur dei furlans la isola. A Pordenone ora dove dopo un itido complesso la caserma mitica ora sede della 132esima brigata corazzata a Riete passerà a titolo gratuito al Comune l'idea è quella di trasformare l'area in un polmone verde contenitore di servizi per i cittadini. I lavori di recupero e riqualificazione dell'area di Diamonte Reale diventano realtà. Il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani è pronto a firmare il protocollo d'intesa sull'acquisizione dell'area della caserma mitica con Ministero della Difesa Regione Friuli Venezia Giulia e il sindaco di San Quirino. 12 ettari che attualmente ospitano la 132esima brigata corazzata a Riete e che saranno destinati a bonifica e riqualificazione urbana per essere trasformati in un'area strategica dotata di servizi e funzioni di pubblica utilità. Il merito a scrivere a questa amministrazione è di averci creduto e già dal 2017 aver tessuto relazioni con lo Stato per entrare in possesso di quell'area. Oggi questa ipotesi è una realtà che andrà condivisa con i cittadini per dare un destino fruttuoso a quell'area cioè un destino che migliori la qualità di quella parte di città che è stata profondamente abbruttita e violentata con urbanistica pesante e abbruttita ulteriormente da un ospedale che è una pioggia di cemento senza un filo di verde. Ad Azzano Decimo il bilancio dell'attività della polizia locale dice che sono in aumento le sanzioni per le violazioni al codice della strada in aiuto all'operato degli agenti arriva un sistema di videosorveglianza. Una polizia locale moderna ma soprattutto operativa quella di Azzano Decimo continua sul fronte dei numeri ad ottenere buoni risultati crescono le sanzioni per l'eccesso di velocità con le contestazioni da parte degli automobilisti ridotte ai minimi termini. Noi abbiamo una 203 infrazioni e sanzioni per quanto riguarda il codice della strada di questo 127 sono riferite alla velocità dato importante che noi non mandiamo la multa a casa ma fermiamo contestualmente il transgressore fondamentale l'apporto della tecnologia una polizia locale che non si è fermata una polizia locale che è al passo con i tempi dal punto di vista tecnologico abbiamo un sistema di videosorveglianza avanzatissimo con un sistema lettura targhe che ci consente di trovare in tempo reale eventuali autosospette oggi possiamo dire a gran voce che senza la polizia locale non si riuscirebbe a fare sicurezza nei territori e per questo l'amministrazione comunale è veramente grata a queste persone che fanno un lavoro straordinario tra poco c'è a voi la linea grazie per aver seguito il nostro telegiornale arrivederci grazie per aver guardato il nostro canale